Amici di Le Fonti TV, bentrovati a questo nostro approfondimento su Le Fonti Instant Focus, un approfondimento che, come leggete in sovrimpressione, parlerà di varie realtà, di cui peraltro parliamo e comunichiamo ogni giorno. Partiremo dalla situazione sicuramente difficile del mercato, non solo del mercato finanziario, anzi in questo approfondimento parleremo della realtà quotidiana, dell'economia reale che è quella che ci interessa di più e soprattutto parleremo di business, che cosa significa fare business oggi, di cosa significa fare impresa oggi con tutte le difficoltà che ci circondano, però come ben sapete vogliamo dare sempre una lettura anche propositiva. Non possiamo mettere da parte le difficoltà reali che viviamo e attraversiamo ogni giorno, però cercando di capire anche come fare a superarle, perché di questo si tratta. E allora il modo giusto per farlo è indubbiamente parlare con chi tutti i giorni fa impresa, chi tutti i giorni deve svolgere mille compiti per guardare al futuro. E parleremo proprio di questo, presente e futuro soprattutto, per capire anche come il mondo del lavoro e del business si è evoluto in questi ultimi anni ormai, perché ripercorreremo un arco temporale abbastanza lungo. Allora, grazie per avermi raggiunta in studio. Giuseppe Mura, CEO di Lubea, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a te Emanuela, è un piacere essere qui con voi e vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di comunque presentare l'azienda a titolo personale come amministratore, ma anche in rappresentanza di tutti i suddipendenti e collaboratori, che sono i principali artefici della realtà di cui oggi veniamo a parlare. E sai, ci diamo del tu perché è molto più facile anche affrontare questi temi. Spesso nei nostri approfondimenti parliamo con referenti dei settori che più costituiscono il tessuto produttivo del nostro paese, dell'Italia. Per quanto ti riguarda parliamo del settore delle telecomunicazioni negli ambiti dell'ingegneria e della progettazione delle reti radiomobili e in fibra ottica nel nostro paese. Ovviamente lascio a te la parola, però insomma con questa premessa, con la premessa che un po' stavo facendo anch'io, è un momento delicato per chi vuole fare impresa, e quindi come si affronta un periodo come quello di oggi e quali sono gli ostacoli principali che si incontrano? Guarda, come dice giustamente, l'azienda opera nel settore delle telecomunicazioni, appunto negli ambiti dell'ingegneria e della progettazione delle reti radiomobili in fibra ottica. Come il nostro, consiglio prima di dare un'indicazione generale sull'attività di servizi che noi offriamo ad alto livello e poi scendiamo appunto nel dettaglio e anche per dare un'idea al nostro pubblico su quali sono gli ambiti nei quali l'azienda opera e come l'azienda è coinvolta anche nelle problematiche di cui tu appunto accennavi poco fa. L'azienda, il nostro portafoglio di offerta, si esplica su due diverse tipologie di servizi. Come consulenza, quindi servizi di pura consulenza, quindi fornitura di competenze ai nostri principali clienti, che sono i principali player del settore delle TLC, appunto sia nel mondo wireless che quello in fibra. abbiamo, lavoriamo direttamente con clienti come ZTE, come Ericsson, come Pastweb, come Sirti, Inuit, tutti i principali player che oggi operano in questo settore. Quindi c'è una parte consulenza e una parte servizi professionali, cioè attività che noi portiamo avanti in full outsourcing, sempre legate al mondo della progettazione delle infrastrutture e delle rete di telefonia. Quindi c'è una parte di consulenza che copre la parte ingegneria e progettazione, una parte proprio di pura progettazione che svolgiamo in house per conto dei nostri clienti. L'azienda, io ho 25 anni che lavoro nel settore delle TLC, diciamo ho sempre seguito la parte della consulenza, quindi all'azienda è stato dato un orientamento molto consulenziale nella prima fase iniziale. Dal 2020, quindi dalla pandemia, da quando comunque si sono cominciati a... Appunto, portiamo con la prima crisi più vicina e più lontana, perché poi dipende da dove la guardiamo. Esattamente, esattamente. Quindi, vuol dire, dal 2020 i nostri clienti hanno cominciato a chiederci in maniera sempre più importante lo svolgimento di attività legate proprio al deployment delle reti, più che alla consulenza. La consulenza è sembrata avanti, però sono aumentate le richieste da parte degli stessi clienti verso l'erogazione dei servizi olezionali, quindi servizi più attinenti allo sviluppo, quindi delle infrastrutture in termini di progettazione. A valle di queste richieste abbiamo cominciato a valutare la possibilità di estendere anche questa nuova area e attualmente l'azienda nel 2022, lo scorso anno, ha creato due divisioni molto importanti al proprio interno legate all'erogazione dei servizi professionali proprio negli ambiti sia della fibra ottica che del mondo wireless, degli operatori radiomobili. Per darti un'idea, la crescita che abbiamo avuto in questo secondo settore è stata molto molto importante, soprattutto nell'ultimo anno. Nell'arco tu considera che in termini di fatturato, nel 2021 la parte dei servizi olezionali incubava in azienda un 10% rispetto al 90% sulla consulenza rispetto al fatturato totale, quest'anno dato al 31 ottobre, dopo appena 10 mesi che abbiamo appunto costituito queste divisioni interne di servizi olezionali, oggi l'incidenza della parte dei servizi olezionali è di un 30% contro lo 70% sul fatturato totale della consulenza. L'obiettivo per l'anno prossimo è di arrivare a un 50-50. Ma questo non vuol dire che si è ridotto il fatturato sulla consulenza a beneficio della parte dei servizi olezionali. Tu consiglia che l'azienda al 2020, al 2022, ha raddoppiato il suo fatturato. Quindi voglio dire, è cresciuta sia la consulenza che la parte dei servizi olezionali, però la parte dei servizi olezionali hanno avuto un'incidenza molto molto importante. Questo perché te lo sto dicendo? Perché poi la parte del netto deployment, proprio dello sviluppo della rete, dell'impostatura delle rete, sono i temi a cui è molto vicino il PNRR e anche gli obiettivi del recovery plan. Quindi questo ti dà già un'idea, un'indicazione di quanto oggi sia strategico investire molto sullo sviluppo della rete. Assolutamente, innovazione, tecnologia, digitale, insomma tutte queste... E la nostra azienda sta seguendo questo trend. Che sono operato, dopo parleremo del PNRR, quando ci proietteremo un po' più nel futuro, perché poi adesso è il momento di tirare un po' le somme anche rispetto ai fondi che l'Europa ha messo a disposizione dei vari Paesi membri per poter potenziare questi elementi che tu hai giustamente citati per essere competitivi sul mercato. Ti faccio solo ancora una domanda rispetto a questo, poi cerchiamo anche di capire quali altre caratteristiche oggi occorre necessariamente avere per essere attrattivi e competitivi sul mercato, perché poi insomma lo sappiamo, se le imprese, si dice sempre questa frase che è vero, si usa anche spesso, a sproposito ma è così, cioè le piccole e medie imprese sono l'ossatura del nostro Paese, il tessuto economico guadagna enormemente, se poi le imprese seguono anche una strada che sia anche eticamente sostenibile, e poi arriviamo, questa è l'altra parola chiave. Però appunto come conciliare il momento di difficoltà con la volontà giustamente di andare nella nuova direzione, cioè quello di essere sempre più innovativi? Allora, sicuramente siamo in una fase molto molto complicata, nel senso che sono stati messi a disposizione i fondi, l'obiettivo è quello di digitalizzare il Paese quanto prima, questo lo si può fare con la rete, sicuramente con il processo di costituzione, di realizzazione della rete unica, di cui poi magari parleremo più nel dettaglio successivamente, e con chiaramente il portare a compimento i cinque piani per cui il governo ha stanziato 6,7 miliardi adesso come prima tranche per il 2023 per sviluppare i piani che sono quelli del piano Italia a un giga, il piano Italia 5G, il piano sanità, il piano scuole e anche il piano isolamento, i tutti i piani che porteranno poi nel 2026 come obiettivo finale al teorico raggiungimento dell'obiettivo della digitalizzazione del nostro Paese, quindi dare la banda larga a tutto il territorio, connettendo tutti i civici ma anche tutto il tessuto industriale del nostro Paese. Oggi essere competitivi cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente fornire... E infatti per un imprenditore come te cosa significa? Essere leader anche insomma, cioè dobbiamo essere leader anche come Paese, cosa significa? Allora, oggi diciamo che si parla tanto, soprattutto in questi ultimi anni si parla tanto di cosa si intende per leadership, di cosa si intende comunque, di cosa deve fare, come deve essere un vero leader. Ora, innanzitutto diciamo che oggi un leader, un vero leader, cioè non è qualcosa che uno impara, cioè o lo è o non lo è, punto. Ci sono delle cose... Cioè per quello è così difficile trovarli. Allora ci sono delle cose che si perfezionano ma che bisogna avere. Esatto, o hai comunque quei soft skills, quelle capacità di trasmettere, di comunicare, di trasmettere con empatia, entusiasmo, fare in modo che i tuoi collaboratori facciano propri i tuoi obiettivi, se riesci a fare questo allora hai già raggiunto un primo gradino dell'arrivare ad essere un vero leader. Un vero leader ma deve essere una persona che deve essere messa in grado anche di poter prendere decisioni in totale autonomia, deve essere una persona che deve essere in grado di dare un esempio verso i propri collaboratori. Sono tanti elementi che poi... Non è così semplice concentrare in un'unica persona. Quindi per questo oggi noi abbiamo una forte carenza, anche nel nostro Paese, di persone che hanno queste capacità o comunque persone che le hanno ma che non vengono messe nelle posizioni strategiche per poterle poi esercitare. Perché spesso chi oggi ricopre un certo tipo di posizioni oggi viene, diciamocelo chiaramente, specialmente su aziende molto molto importanti e strategiche del nostro Paese, ricoprono quelle posizioni perché appartengono a certe accordate politiche oppure devono fare interessi ai gruppi finanziari. Cioè voglio dire, si tratta comunque di scelte che poi magari sono improduttive nel poi portare al raggiungimento di certi obiettivi. Certo, mettiamola così, lo dico io se vuoi. Speriamo che attraverso e con questo processo evolutivo che ci deve portare necessariamente a una maggiore innovazione ci sia anche una maggiore meritocrazia. Maggiore attenzione. Attenzione a quelle che sono veramente le pedine giuste da mettere al posto giusto. L'accetto, assolutamente d'accordo. Lanciamo questo messaggio che per me è importante lanciare perché insomma è molto molto importante. Comunque quali sono i problemi a cui accennavi prima a cui si va incontro? Allora sì, diciamo che a livello azienda noi come l'Ubea quello che cerchiamo di fare è quello comunque di sostenere i nostri clienti perché chi ha le vere difficoltà sono i nostri clienti. Noi come azienda di servizi e di consulenza diciamo su di noi viene impattato poco insomma i problemi del caro energia perché comunque come azienda non abbiamo scelto una soluzione di non avere una sede di proprietà o comunque un appito ma ci appoggiamo a un centro servizi che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi l'atto nostro è il caro energia. Scelta lungimirante. Esatto, l'abbiamo fatta nel 2021 e devo dire che è servita. Quindi non abbiamo problemi legati al caro energia allo stesso tempo non abbiamo problemi di costi materie prime perché non siamo un'azienda che fa produzione di prodotti, passami il gioco di parole che realizzano i prodotti in secchi. Sì, però i problemi li hanno i clienti e quindi insomma la responsabilità nei confronti del cliente è fondamentale. Esatto. E la politica che noi abbiamo adottato anche nel periodo della pandemia per i nostri clienti è quella appunto di adottare una politica una filosofia di business un po' più diversa. Siamo stati, li abbiamo sostenuti durante la pandemia, stiamo continuando a sostenerli e anche in termini di efficienza nella tipologia dei servizi che offriamo fanno in modo che anche loro abbiano comunque una maggiore produttività e una maggiore, lasciami dire, hanno una sensibilità maggiore e riusciamo a creare un rapporto più di partnership e di semplici fornitori. Quindi anche in questo mi riferisco anche a questo mi riferisco nel momento in cui parlo di filosofia di un business, della condizione di un business ethics perché sì, l'azienda fa i propri interessi non sarei un imprenditore se non faresti i miei interessi. Però stiamo anche, stiamo molto attenti a non guardare sempre solo i numeri perché guardare i numeri è un modo di, è un'analisi molto asetica che poi porta conseguenze estremamente dannose, no? Quindi spesso è meglio perdere qualcosa però poi alla fine a questo dà un ritorno in termini di sviluppo ulteriore in questo futuro. Ecco, stavo dicendo perché questo sul lungo periodo paga. Sul lungo periodo paga, esatto, esatto. E questa è una filosofia che noi abbiamo notato sin dall'inizio ma sia per i nostri dipendenti nato tra i nostri dipendenti ma anche e soprattutto per i nostri clienti. Ecco, infatti, questo vostro approccio di cui già tu stai accennando molto inclusivo, molto attento a sostenere e patrocinare anche iniziative culturali, sportive legate al territorio da dove nasce? Perché abbiamo avuto già modo di leggere questa vostra esperienza appunto sulle pagine di World Excellence e però questo è importante perché lo dicevi tu più si va verso il futuro più sarà necessario spesso si parla di finanza sostenibile di tutte le iniziative legate proprio a quella che è la finanza sostenibile che non è un concetto astratto cioè o meglio, se lo è deve diventare presto un concetto fatto di praticità. Certo, certo. Per questo è molto importante l'inclusione cioè l'inclusione che noi promuoviamo all'interno della nostra azienda ma anche verso il territorio nel quale operiamo cioè il fatto di sostenere iniziative comunque legate al mondo della cultura dello sport porta anche insomma a fare in modo che l'azienda si integri nel territorio e quindi anche gli investimenti in termini finanziari vengono fatti in maniera sostenibile a tutela anche di iniziative legate all'energia pulita e quindi a zero emissioni che diamo molto nel green nell'economia circolare tutti poi gli obiettivi dell'agenda digitale 2030 a cui tutto il sistema paese dovrà tendere e dovrà comunque adeguarsi quindi sono tutte iniziative che alla fine hanno un loro valore e che poi fanno parte del nostro brand come azienda perché noi una cosa su cui noi abbiamo puntato molto al 2020 è quella di essere riconoscibili in maniera sul mercato come un tipo di azienda un'azienda un po' diversa infatti un'azienda diversa di valore e che comunque comunicativa e che sempre tutto in linea con i principi che poi mi hanno sempre insomma che ho sempre seguito apportamente che hanno sempre rappresentato voglio dire che costituiscono anche valori e anche lasciami dire gli elementi che caratterizzano il nostro percorso imprenditoriale questo è molto molto importante e chiudo un attimo completo quello che stavo dicendo prima sul fatto delle difficoltà che sono legate all'inflazione al costo delle materie prime penso sia un tema molto molto importante ma considerato il tema il fatto che oggi questo è un problema fondamentalmente per i nostri clienti perché comunque hanno delle aziende che subiscono i costi dell'energia hanno comunque hanno comunque devono acquistare materie prime dall'estero c'è comunque e quindi questo chiaramente comporta delle forti difficoltà e proprio per questo motivo una delle poi parleremo magari anche delle linee del governo però dell'attuale governo una delle cose positive infatti sta facendo il nostro governo è anche quella di rivedere se i fondi stanziati al tempo sulle telecomunicazioni per il deployment delle reti sono sufficienti per i nostri stanziati non dimentichiamo c'è un anno e mezzo fa due anni fa è cambiata profondamente quindi è corretto anche per quanto venga criticato l'attuale governo il fatto che comunque rivedano i fondi stanziati perché probabilmente ci sarà bisogno di più fondi per garantire il raggiungimento degli obiettivi quelli attuali probabilmente non saranno più sufficienti e non solo e poi ci sono trassegliati ostacoli e se vuoi poi andiamo a parlarne più nel dettaglio ci sono ancora due aspetti che voglio affrontare con te visto che abbiamo parlato del governo e della revisione che necessariamente deve essere fatta di alcuni provvedimenti e fondi stanziati abbiamo accennato prima al PNRR visto che stiamo parlando delle difficoltà del presente cominciamo a dare qualche cenno su come affrontare il futuro il PNRR quanto può aiutare in questo? Allora il PNRR sicuramente ha aiutato tantissimo i principali player del mercato sia al lato fibrautica che al lato radiomobile per avere i fondi necessari per poter fare lo sviluppo della rete chiaramente ha messo dei fondi che possono utilizzare perché considerando la situazione drammatica nella quale si trovano gli attuali operatori in Italia in particolare il team anche Vodafone cioè in termini a livello di indebitamento per tutte le sei motivi che poi diciamo per i quali sarebbe necessario poi fare una trasmissione a parte la faremo molto interessante sul numero degli operatori che abbiamo in Italia rispetto a quelli che in Europa rispetto a quelli che sono in altri paesi sull'Arp che è comunque bassissima in Italia rispetto a quelli di altri paesi sono una serie di situazioni che comunque portano gli operatori a essere in sofferenza dal punto di vista finanziario quindi non avrebbero avuto i fondi per poter finanziare la crescita e lo sviluppo della rete il PNRR risolve uno di questi problemi sicuramente e diciamo proiettare in 12 in il futuro vuol dire proiettarci al 2026 o meglio al 2030 poi dove comunque si dovrà secondo la teoricamente dovrebbe raggiungere diciamo la totale integrazione uomo infrastruttura digitale dovrebbe garantire quella che voi viene chiamata la digital mobility però questo si può realizzare solo se si rispettano gli obiettivi che sono fissati al piano gli obiettivi e su questo se li dubbi perché vista la situazione attuale ah e poi fatti stavo dicendo ce la faremo perché questo è il punto cruciale secondo me se quello che abbiamo fatto quest'anno dovesse ripetersi anche l'anno prossimo sarebbe in forte difficoltà e probabilmente saranno anche in difficoltà verrà messa in difficoltà anche l'erogazione di nuovi fondi perché l'Europa ha messo dei rubinetti esatto ha messo le time precise quindi potete dire all'Europa penso non interessi le lungaggini diciamo di carattere amministrativo che noi abbiamo per autorizzare i nuovi siti non interessa il fatto che abbiamo carenza di manodopera in questo settore nel settore del settore TLC sembra che nelle TLC manchino circa 16 mila addetti per poter e sono tantissimi solo open fiber lamenta una carenza di 3500 unità e open fiber è in fortissimo ritardo sugli obiettivi 2022 non solo sulle aree nere ma anche sulle aree bianche infatti probabilmente insomma CDP penso farà degli interventi importanti in questo senso perché voglio dire penso si stia attendendo adesso la fusione diciamo di team con open fiber per poi prendere decisioni al vertice perché insomma attualmente non solo open fiber ma anche altri operatori del settore sono tutti in forte ritardo non necessariamente a causa della gestione ma anche dovuti a dei problemi contingenti per il contesto nel quale operiamo infatti quello che ti stavo per chiedere mi hai anticipato tu è chiaro che in questo momento chi si è portato avanti in tempi non sospetti probabilmente riesce maggiormente a far fronte alle difficoltà perché se invece si comincia ora a dover mettere in campo tutte queste iniziative che danno questa spinta innovativa di cui stiamo parlando beh sicuramente però bisogna anche un attimino fare i conti con la realtà e far quadrare questi conti insomma non è facilissimo ma tu pensa in serie 16.000 persone addetti nel campo di RITLC in così poco tempo è veramente critico anche capire se sono formate adeguatamente ecco ma guarda anche lì ci possono essere delle problematiche allora se il tutto non viene affrontato in maniera strutturata ci possono essere le classiche problematiche di skill shortage cioè che si mettono in campo persone poco formate e quindi creano più danni che altro però considera che buona parte di questi addetti non le professionalità richieste per una parte gli addetti mancanti al settore delle RITLC sono risorse che dove diciamo per le quali non si prevede non si prevede abbiano un'elevata scolarizzazione nel senso parliamo le persone che mancano sono le persone più operative quelle che fanno la posa dei cavi in fibra ottica risorse che fanno sono giuntisti vengono chiamati così che quindi interconnettono parti di fibra o comunque anche cioè sulla parte e queste persone mi viene in mente uno dei suggerimenti che mi sento di dare insomma al nuovo governo considerando la situazione potrebbe essere quella adesso il governo deve ascoltare le imprese assolutamente ma voglio dire abbiamo necessità di manodopera specializzata abbiamo tante persone ferme che fino a per diversi anni sono state ferme con reddito di cittadinanza che adesso il nuovo governo vuole limitare vuole a mio parere giustamente è una mia personale opinione però questa dare a chi ne ha effettivamente bisogno persone in età di lavoro possono essere vi sono proprietà anche il governo con dei corsi di formazione possono essere formate in questa attività possiamo abbiamo 660.000 persone che comunque probabilmente l'anno prossimo non percepiranno più i regi di cittadinanza ma perché non ci attiviamo e non le formiamo non le professionalizziamo per creare tra virgolette un esercito no di persone formate possono essere possono essere impiegate da open fiber possono essere impiegate dagli altri operatori da team da altri operatori che comunque per attività che oggi su profili professionali che oggi non si trovano sul mercato assolutamente la formazione costa come tutte le cose però però costerebbe molto di meno appunto e poi il governo avrebbe il ritorno dalle tasse pagate dal discorso che facevamo prima dagli stipendi che percepiscono le risorse quindi questo investimento avrebbe un ritorno per il governo voglio dire quello che si diceva prima spesso non si fanno delle cose perché costano ma senza considerare che nel lungo periodo invece si guadagna di più si guadagna di più assolutamente assolutamente ma poi fai girare di più l'economia quindi la persona acquistano hanno la possibilità di acquistare quindi chiaramente c'è il pagamento dell'IVA c'è il pagamento di tutta una serie di tasse allora Giuseppe dobbiamo avviarci a conclusione però prima volevo riprendere un concetto che abbiamo utilizzato prima il vostro approccio etico oppure potremmo dire siete eticamente orientati insomma i temi etici sono fondamentali per questo avete ricevuto anche un premio faccio raccontare a te allora sono sicuramente allora sicuramente l'avere ricevuto questo premio per noi è molto molto importante perché riconosce il percorso guarda leggo solo delle parole chiave della motivazione inclusività trasparenza flessibilità attento focus sulla sostenibilità ambientale insomma questo è il futuro visto che stiamo parlando di futuro anche perché le aziende le aziende dei prossimi decenni devono stare particolarmente attente a queste tematiche noi l'abbiamo l'abbiamo capito sin da quando l'ho costituita l'Ubea dal 2017 anche in tempi non sospetti e abbiamo sempre dato questo orientamento considera che l'azienda ha la certificazione 14 ha preso tra le altre abbiamo oltre la classica ISO della certificazione di qualità abbiamo la 14 001 su ambientale quindi a sostegno comunque di una politica interna tutela dell'ambiente comunque di processi interni e comunque sono finalizzati da l'utere dell'ambiente entro quest'anno spero di non solitare a giornale l'anno prossimo però se facendo possibile per chiuderla quest'anno prenderemo la certificazione la S8000 che comunque è una certificazione sulla responsabilità di impresa la responsabilità appunto sulla sostenibilità di impresa ed è comunque un riconoscimento che ci viene lasciato che viene rilasciato da un ente internazionale e che è particolarmente attento alla verifica che all'interno le aziende che hanno questa certificazione abbiano dei processi interni che tutelano la discriminazione di genere che tutelano il fatto che non vengono applicate delle applicate i raccolti di lavoro minorile per esempio il fatto tutela dei dipendenti parliamo di etica quindi figuriamoci anche all'interno dell'azienda o qualcosa su cui noi puntiamo molto quindi tra sei fattori che sono di interesse e che ci danno un posizionamento ben preciso all'interno dell'ecosistema imprenditoriale delle piccole e medie imprese nel nostro paese e sono tutti elementi importanti sono piccole cose su cui lavoriamo giornalmente che stanno dando dei giusti riconoscimenti insomma stiamo parlando del business del futuro mi aggancio a queste tue parole per salutarti e ringraziarti ma per dire che secondo me la morale della favola a me piace sempre trovare un po' la morale delle situazioni che non è quella di nascondere le difficoltà che ci sono e le viviamo tutti quanti chi più chi meno però insomma anche da posizioni differenti ma fare di tutto per affrontarle e per quanto possibile superarle poi ovviamente c'è chi ha bisogno di più tempo e c'è chi ha bisogno di meno tempo però l'approccio deve essere questo senza dimenticare che dobbiamo sempre essere più sostenibili e questa parola la ripeto ma perché al di là di salvaguardare il nostro paese il nostro sistema questo ci permette di essere competitivi perché se ci chiudiamo nel nostro guscio saremo sempre meno come dire sempre meno sostenitori mettiamola così dell'Italia ci saranno invece noi abbiamo bisogno di sostegno ce lo diamo da soli perché fortunatamente siamo in grado di farlo però abbiamo anche bisogno perché siamo in un mondo ormai che è estremamente interconnesso e sarà sempre più interconnesso ecco terminiamo con questa parola grazie mille a Giuseppe Mura CEO di Lubea per essere stato con noi per averci raccontato una realtà che sicuramente può essere insomma un po' da da spunto può fare da spunto anche a tutti quelli che ci hanno seguito grazie a te Manuela è stato un piacere essere con voi oggi grazie grazie a presto dobbiamo continuare ci sono un po' di cose che ora abbiamo affrontato e che dovremmo affrontare in una prossima occasione io l'ho segnata di tutti guardate un po' perché carta canta sono un po' di cose anche sulle problematiche adesso te li faccio sottoscrivere così almeno ci rivediamo quando vuoi con grande piacere va bene grazie ancora grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti questo è il nostro Le Fonti Instant Focus e vi aspettiamo presto anzi rimanete su Le Fonti TV grazie